Il dottore Limitro faccia la sede delle Olimpiadi, Sindaco, a che punto siamo? Con i lavori a Milano, in particolare su Pala Italia e in particolare sugli extracosti, sia per Pala Italia che per il Lagioli? Anche qua purtroppo facciamo fatica a farci ascoltare il governo, è chiaro che ci sono degli extracosti, ma è chiaro che se abbiamo scelto insieme di affidare dei privati la costruzione degli impianti per evitare il sborso dei soldi pubblici, ora c'è bisogno di un po' di soldi pubblici, servirebbe un po' di comprensione. È una storia che ancora non è finita, però noto con piacere che gli operatori vanno avanti a lavorare senza… Pala Italia, ci stanno rispettando i tempi? Stanno rispettando i tempi, ci stanno rispettando.